Onorevole, il ritorno di una grande classica e il Rapallo ha risposto in un modo straordinario. A cominciare dal tempo, un tempo magnifico di una giornata di settembre da incorniciare, un folto pubblico, grande entusiasmo, del resto la Milano-Rapallo da sempre, è una manifestazione a cui i miei concittadini sono particolarmente legati. Quest'anno è stata un'edizione particolarmente ben organizzata e quindi gran merito a colui, diciamolo pure, fortunato che l'ha organizzata in maniera magnifica, hanno partecipato tutti coloro ai quali noi ci siamo rivolti e quindi siamo assolutamente soddisfatti. Per il prossimo anno aspettiamo di fare ancora di più e di meglio, perché la Milano-Rapallo ha un grande passato ma avrà sicuramente uno splendido futuro.